Devi scegliere. Cavalire anche self-management, cioè autogestione, ma anche a livello di scelta e di strategia. O monti dando il tuo 100% o non lo monti. Devi agire e devi applicarlo. Ciò che funziona, bene. Ciò che non funziona, serve per migliorare. Un cavallo nuovo che ha, un cavallo che è interessante, può far bene e quindi non deve pensare solo al lato negativo del percorso, ma anche a quello di positivo che ha fatto per cercare di farlo sempre. Sai che corre un pochettino? Tieni leggermente più appoggio qua. Per non essere troppo leggero e poi di colpo ti prendi la bocca e allora devi prendere la mano. Nella curva lavora un pochettino, apri e chiudi le dita. Ho fatto un buon lavoro. So che lui aveva una palcata grande, si è stata molto bene 6-7 esterno, ancora meglio dopo la gabbia, perché ti sei reso conto che lui ti recuperava la distanza e hai fatto bene.